domani 21 maggio verrà presentato in diretta su cilento channel come annunciato dal sindaco coppola nel suo intervento di ieri il progetto riguardante le nuove modalità per usufruire delle spiagge libere dopo le tante richieste ricevute dai cittadini intervento nel quale il primo cittadino ha dato varie informazioni sulle attività dell'amministrazione in questo periodo di ripartenza è comprensibile che dopo tutto questo lavoro ci si arrabbia vedendo a rischio tutto il lavoro fatto da noi i primi segnali non sono stati positivi se vedrò ancora esagerazioni nei comportamenti potrò essere restrittivo e limitare per esempio le uscite serali mettiamo la mascherina almeno ed evitiamo assembramenti questo è il commento di adamo coppola sui primi giorni di fase 2 il quale in seguito parla anche del lavoro svolto ieri oggi sono state fatte una decina di delibere di giunta per avviare il progetto riviviamo agropoli sono i primi segnali che lanciamo alla città a ferma coppola stiamo lavorando per fare in modo che la richiesta del suolo pubblico sia totalmente gratuita mi auguro che ci sia una bella risposta il sindaco inoltre ha trattato l'argomento mercato del giovedì del quale gli agropolesi attendono la riapertura anche per l'importanza e la tradizione del mercato il mercato diventerà senso unico si potrà seguire un solo percorso quindi dobbiamo organizzarlo per non far creare assembramenti bisogna trovare intesa con i mercatali perché gli spostamenti delle baracche possono fare danni economici si deve raggiungere un'intesa complessiva con ognuno e c'è bisogno di tempo mi auguro di poter cominciare il prossimo giovedì altrimenti dovremo riassegnare i posti da capo con un bando conclude il sindaco Adamo Coppola